Quando sono arrivato in Palazzetti mi sono state presentate le diverse innovazioni, peculiarità e caratteristiche con le quali noi sviluppiamo le macchine a legna, da sempre nel cuore dell'azienda. Avendo ricevuto l'incarico di riprogettare da zero l'inserto a legna EcoPalex, abbiamo potuto mettere a sintesi tutta la tecnologia che negli anni Palazzetti ha utilizzato nel mondo della legna, ma in un unico prodotto. E così è nato EcoPalex GTM. Questo nuovo prodotto racchiude nello stesso spazio di prima maggiore potenza, maggiore resa termica e una prestazione ambientale a 5 stelle. Per ottenere questo risultato abbiamo riprogettato la camera di combustione utilizzando il Thermofix per la sua capacità di contenere il calore e la per la base, conferendo così maggiore robustezza e solidità alla macchina nel tempo. La camera è sigillata ad una porta, unione di due materiali, ghisa per il telaio e vetro ceramico all'esterno, affedabilità e linee pulite allo stesso tempo. All'apertura la porta attiva automaticamente la valvola a fumi per evitare sbuffi durante la ricarica della legna. Così come presenta i due registri dell'area primaria e secondaria per la regolazione fine della combustione e la pulizia del vetro. Una grande attenzione è stata dedicata al design e pulizia delle linee. Le cerniere sono completamente scomparsa e tutte le viti sono state nascoste. Le prestazioni di questa nuova macchina possono adattarsi a tutte le esigenze di distribuzione del calore. La configurazione a convezione naturale e il raggiamento per godere delle bellezze della fiamma avvolti nel calore del fuoco. La ventilazione frontale per gli spazi più grandi e più veloci al raggiungimento del comfort. La configurazione canalizzabile per trasportare il calore anche in altri ambienti senza rinunciare all'irraggiamento. Per i chi di ventilazione abbiamo a disposizione tre tipi di interfaccia, dalla più semplice a quella con la app e il telecomando Shape. Ma tutto questo non nasce in un solo prodotto. Abbiamo realizzato tre diverse misure per soddisfare tutta la clientela. Nasce così Ecopale GTM 70 80 90 e tutto a 5 stelle. Le dimensioni vanno dalla più piccola 62 cm x 51 fino alla più grande 83 cm x 63. Per quanto riguarda invece le potenze andiamo dai 9 ai 13,5 kW, mediamente 2 kW in più della gamma precedente a parità di misura. Per tutti gli Ecopalex sono disponibili i kit di ventilazione canalizzabile e frontale con tutte le interfacce.